Chi pensava che i giovani non avessero a cuore la vaccinazione anti-Covid si sbagliava e di grosso. Forse alla base del successo delle prenotazioni degli under 30, dove già si poteva, c'è la speranza di un'estate più libera e tranquilla possibile, ma anche l'ormai fondamentale Green Pass necessario per viaggiare all'estero. Fatto sta che in poche ore è stato boom di richieste. In Lombardia, ad esempio, quasi 500.000 ragazzi e ragazze sotto i 30 anni hanno già riservato la loro prima dose nel primissimo giorno disponibile per prenotarsi. Le regioni procedono però in ordine sparso a seconda del livello di avanzamento della campagna vaccinale che, come è stato ricordato più volte, deve prediligere sempre e comunque i più anziani e i fragili, visto che oltre 3 milioni di over 60, categoria ad elevato rischio di ospedalizzazione e di decesso, non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose. Alcune daranno priorità ai giovanissimi tra i 12 e i 15 anni, alcune agli over 16, altre ancora continueranno per il momento con i quarantenni e trentenni. Tempi e modi diversi con Lombardia, Campania, Veneto, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano, le prime da ieri ad aver aperto le prenotazioni per tutti. Giugno sarà il mese della spallata al Covid, ha detto più volte il commissario all'emergenza Figliuolo, che chiede flessibilità alle regioni per evitare che il richiamo capiti nel bel mezzo di una vacanza. L'obiettivo è quello di evitare, per quanto possibile, che la seconda dose coincida con i periodi di assenza dalle zone di residenza e di assistenza. Intanto scende ancora l'RT nazionale. Secondo il consueto monitoraggio della cabina di regia, nell'ultima settimana si attesta allo 0,68 contro lo 0,72 di quella precedente. In caduta anche l'incidenza, 32 casi ogni 100.000 abitanti, venerdì scorso erano 47. Da lunedì altre regioni passeranno in zona bianca. A Fiuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna si aggiungeranno Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.